Lions in piazza è questo il titolo dell'iniziativa organizzata dal Lions Club Garfagnana in collaborazione con alcune associazioni del territorio per offrire alla popolazione la possibilità di una serie di visite e screening gratuiti su prenotazione. La manifestazione, che ogni anno ottene molti consensi, quest'anno si è svolta a Fornoli di Bagni di Lucca. In campo, una vera task force di medici e specialisti in cardiologia, ECD vascolare, ortopedia, dermatologia, prova udito, posturologia e molti esami che riguardano le varie forme di diabete. Anche in questa occasione abbiamo circa 300 prenotazioni e considerato che siamo in epoca Covid anche la gestione non è delle più facili ma noi stiamo portando avanti questo service e queste visite rispettando rigorosamente il protocollo anti-Covid per garantire ovviamente la prevenzione ma anche la salute degli operatori e dei pazienti che partecipano. In realtà tutta la popolazione del nostro distretto Garfagnana e Mediavalle, specialmente i meno ambienti che hanno difficoltà a raggiungere le specializzazioni o ci arrivano in tempi molto lunghi, questo service si è dimostrato più puntuale rispetto ai servizi ASA. Era presente anche un'unità mobile dei Lions, oltre ad alcune associazioni tra cui le misericordie di Borgamozzano e Corzagna e la Croce Rossa di Bagni di Lucca che all'interno di una tenda hanno posto l'accento su un tema particolarmente preoccupante ovvero la violenza verso i volontari di soccorso. La tenda che è qua alle mie spalle vuole ricreare graficamente quello che accade a seguito di aggressioni al personale sanitario sia durante i conflitti armati che durante il tempo di pace. Questo al fine di andare a sensibilizzare la popolazione e gli utenti sul tema delle aggressioni al personale sanitario e della campagna di Croce Rossa denominata Health Care and Danger e Non sono un bersaglio che stiamo portando avanti come Croce Rossa italiana e come Croce Rossa internazionale.